Sono stati condannati dal Gup di Marsala Riccardo Alcamo, i due uomini che il 4 novembre 2018 hanno malmenato il mazzarese di origine tunisina Mohamed Sofiane Zitoun, già consigliere comunale aggiunto, per aver negato loro qualche sigaretta. I fatti accadono in piazza della Repubblica Mazzara del Vallo, davanti al Bargarden. Qui i due giovani bulli, con fare minaccioso, cercando anche lo scontro fisico, chiesero delle sigarette a Sofiane Zitoun e al suo rifiuto tentarono di sottrargli l'intero pacchetto. Zitoun, minacciato di morte, fu poi colpito con due schiaffi e una ginocchiata al naso, subendo fratture che al pronto soccorso furono giudicate guaribili in 21 giorni. Adesso i due giovani di 21 e di 22 anni, anche loro di origine tunisina, sono stati condannati con il rito abbreviato per rapina, lesioni personali e minacce, rispettivamente a tre anni, nove mesi e dieci giorni di carcere per l'uno e a un mese e dieci giorni per il 22enne. Per quest'ultimo, la sospensione della pena è condizionata al risarcimento del danno alla parte civile, rappresentata dall'avvocato Carmelo Presti Filippo.